Ben ritrovati su Sicilia 24, la cronaca in primo piano in questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo partendo dal Siracusano. I carabinieri della stazione di Avola hanno arrestato un 25enne del posto in esecuzione di un'ordinanza per esecuzione pena emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L'uomo, che al momento della notifica dell'ordinanza era già in regime di arresti domiciliari, dovrà scontare 4 anni, 11 mesi e 23 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina commessi rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Il giovane pertanto è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa a Cavadonna, dove sconterà la pena. Ci spostiamo adesso nella Trapanese e continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara hanno rinvenuto sulla battigia del lungomare Tre Fontane un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 670 grammi. Gli uomini dell'arma, avvisati da un passante che ha notato lo strano involucro sulla battigia, sono andati sul posto e ha accertato si trattasse di droga, hanno sequestrato quanto rinvenuto. Già nel febbraio 2021 i carabinieri avevano rinvenuto su quella stessa spiaggia un pacco di droga di ben 36 chili, in un periodo dove in tutta la provincia si sono verificati questi ritrovamenti oggetto di indagini. Restiamo in tema. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto e smantellato due piazze di spaccio a Mazzara del Vallo, siamo quindi ancora nel Trapanese. Vediamo il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 21 soggetti di cui 13 colpiti della misura del divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento e 8 destinatari dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Gli indagati sono indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, GICO, hanno riguardato due gruppi criminali che avrebbero gestito due distinte piazze di spaccio attive a Mazzara del Vallo, nel quartiere popolare di Mazzara 2, attraverso una capillare rete di distribuzione in grado di perfezionare quotidianamente molteplici cessioni di sostanza stupefacente, diversificandone l'offerta dal crack alla marijuana all'hashish e alla cocaina. Quale carattere comune ai due sodalizi investigati sarebbe emerso il sistematico ricorso a un linguaggio criptico per dissimulare la compravendita di sostanze stupefacenti che a tal fine venivano denominate ricci, pesci, magliette bianche, oscure in relazione alle differenti tipologie di droghe trattate. Le vicende oggetto di approfondimento investigativo sono state valorizzate anche in chiave economico patrimoniale, acquisendo elementi indiziari che hanno permesso di ipotizzare a capo a uno dei principali indagati il reato di autoriciclaggio, in quanto lo stesso avrebbe reinvestito parte del denaro frutto dell'attività illecita nell'acquisto di un moto peschereccio, che fa parte dei beni oggetto del provvedimento di sequestro. Sette dei destinatari delle misure cautelari, infine, risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza. In conformità alle disposizioni vigenti, tale circostanza sarà oggetto di comunicazione all'Inps al fine dell'immediata sospensione del beneficio. A Catania, durante un controllo nel quartiere di Picanello, i carabinieri hanno individuato e tratto in arresto un pusher. Il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato un 44enne catanese pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Incessantemente impegnati nel contrasto dell'illegalità diffusa e in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell'arma, nel corso di un servizio nel quartiere Picanello, hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che, visto uscire dal portone di un palazzo di via Donizetti, dopo aver prelevato una busta di plastica da un'autovettura, si era frettolosamente allontanato. L'uomo, subito riconosciuto dagli operanti, poiché già noto per pregresse, vicende giudiziarie e per spaccio di droga, è stato visto quindi incamminarsi con atteggiamento guardingo in direzione di via Vezzosi con la busta stretta tra le mani, inconsapevolmente però con i carabinieri a seguito. I militari sono intervenuti bloccando il 44enne e, sottoponendolo a ispezione, è stato trovato in possesso di quella busta contenente 210 grammi di marijuana, poi sottoposti a sequestro. La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'uomo ha poi consentito ai militari di rinvenire nella sua disponibilità anche un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga. Il 44enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto dai carabinieri agli arresti domiciliari, ove permane all'esito dell'udienza di convalida. Ci spostiamo ora a Petrosino, torniamo quindi nel Trapanese dove i carabinieri hanno tratto in arresto due noti pregiudicati, il servizio. Un'altra vasta operazione di polizia giudiziaria denominata Trinacria, condotta dai carabinieri, ha interessato ancora il territorio del comune di Petrosino nei giorni scorsi. Il crescente allarme sociale, generato dall'aumento di reati contro il patrimonio registrato nel corso degli ultimi mesi, ha richiesto l'intervento massiccio delle forze dell'ordine che hanno dispiegato oltre 40 carabinieri effettivi alla locale stazione, al nucleo operativo e radiomobile di Marsala e alla compagnia di intervento operativo della legione Sicilia, con pattuglie inviate di rinforzo su richiesta del comando provinciale di Trapani. A finire nella rete dell'arma, questa volta è stato un noto pregiudicato marsalese di 40 anni, detto King Kong, molto temuto dalla popolazione petrosilena, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Marsala da circa dieci giorni, durante i quali lo stesso si era reso irreperibile. L'uomo, dopo incessanti ricerche, è stato trovato presso l'abitazione di un parente e dopo l'arresto è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Un altro soggetto tratto in arresto perché gravato da ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Trapani è un marsalese classe 90 che deve scontare 5 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Nel medesimo contesto operativo sono stati denunciati sei soggetti per vari reati. Un pregiudicato 28enne trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. Un pregiudicato di 42 anni, oltre ad essere in possesso di un coltello a serramanico, è stato sorpreso a detenere della sostanza stupefacente del tipo hashish. Un altro pregiudicato marsalese di 36 anni è stato denunciato per ricettazione di un'auto risultata rubata. Un giovane classe 2001, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all'assunzione di droga, rimediando il massimo della pena. Infine, due marsalesi minorenni sono stati denunciati per resistenza pubblico ufficiale, in quanto non si sono fermati all'alt intimato dai militari operanti. Parliamo di Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino settimanale diramato dalla regione siciliana. In Sicilia sono in lieve diminuzione sia i nuovi casi che le ospedalizzazioni. Nella settimana dal 21 al 27 novembre la curva epidemica segna un lieve decremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia. Sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività al virus, meno 4,29% rispetto ai sette giorni precedenti e un'incidenza accumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Tassi di nuovi positivi più elevati rispetto alla media regionale si sono avuti nelle province di Catania, Enna, Palermo, Messina, Trapani e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 23 al 29 novembre. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,73%, mentre 65.553 bambini pari al 21,27% hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,87%. Ha completato il ciclo primario l'89,52% del target regionale. Hanno ricevuto la terza dose 2.769.855 persone pari al 72,37% degli aventi diritto. Il Ministero della Salute ha autorizzato dal 7 settembre l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della dose booster aggiuntiva agli over 60, alle persone di elevata fragilità e agli over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, lavoratori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Dal 23 settembre è consentito l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la quarta dose, su richiesta dell'interessato, a tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo le quarte dosi somministrate sono 188.368, delle quali 169.475 agli over 60. Sempre dal 23 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione della quinta dose con vaccini bivalenti ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 17 ottobre l'erogazione è stata estesa anche agli over 80, agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità. Le quinte dosi somministrate ad oggi risultano complessivamente 3.311. A riposto nella Catanese i carabinieri hanno tratto in arresto due malviventi che avevano rubato all'interno di un supermercato. I carabinieri di riposto unitamente ai colleghi della stazione di Calatabiano hanno arrestato due cittadini di nazionalità romena di 23 e 24 anni nella fragranza di reato di furto aggravato. Il responsabile della sicurezza di un supermercato sito all'interno di un noto centro commerciale ha allertato la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Giarre della presenza di due giovani che sembravano essere gli stessi che più volte in passato erano stati individuati come probabili autori di furti all'interno dell'attività commerciale. Immediatamente pertanto presso il supermercato in questione sono intervenuti i carabinieri delle due stazioni che hanno preso in custodia i due giovani che poco prima erano stati fermati dagli addetti alla sicurezza per un accertamento sul contenuto degli zaini che portavano in spalla. I militari hanno poi appurato che i due giovani, dopo aver provveduto al pagamento presso la cassa del supermercato di articoli per un importo complessivo di pochi euro, avevano riempito i loro zaini di prodotti per una somma intorno ai 300 euro immediatamente restituiti alle responsabili del supermercato. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Ed ora nel ragusano per parlare invece di una truffa sui bonus edilizi e sono due gli imprenditori finiti in manette. Vediamo il servizio. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale Ibleo con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un imprenditore campano e gli arresti domiciliari per un imprenditore modicano per avere abilmente fittiziamente creato e commercializzato, con la complicità di altre 5 persone, oltre 115 milioni di euro di falsi crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo dei cosiddetti bonus facciate e bonus ristrutturazioni in realtà mai avvenuti. L'autorità giudiziaria ha disposto altresì il blocco di tali crediti fiscali inesistenti con il sequestro preventivo di denaro, beni e assetti societari in misura equivalente al profitto del reato. Il provvedimento è stato emesso all'esito di un'articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dai finanzieri della Compagnia di Modica che tramite i dati estratti dalla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, l'approfondita analisi della documentazione bancaria, i mirati sopralluoghi e la raccolta di testimonianze da parte di persone informate sui fatti hanno portato alla luce il complesso meccanismo fraudolento con cui è stata perpetrata la truffa a danno del bilancio dello Stato. Inoltre la complessa ricostruzione delle transazioni finanziarie ha consentito di accertare l'autoriciclaggio di oltre 57 milioni di euro. Su proposta della locale Procura, il ha anche disposto il sequestro preventivo di quote di partecipazione in 9 società per un valore di circa 250 mila euro, 24 autovetture e 2 motoveicoli, 2 unità immobiliari, tutti conti correnti nella disponibilità di 5 dei 7 indagati, nonché il blocco sul portale dell'Agenzia delle Entrate dei crediti compensabili nei cassetti fiscali riconducibili a 24 imprese e 33 soggetti, risultati cessionari finali dei fittizi crediti di imposta. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ci ritroviamo più tardi su Sicilia24. Grazie a tutti. Grazie.